Un servizio disponibile a tutta la cittadinanza, un supporto psicologico messo in atto dal reparto di psichiatria dell'ospedale Lescotte di Siena. In questi momenti così difficili d'altronde è comprensibile attraversare momenti di sconforto. Nasce così la telepsichiatria che sarà disponibile per tutti. In alcuni casi chiaramente questa situazione aumenta l'ansia, aumenta la preoccupazione. Ci sono moltissimi casi di persone che non dormono, persone che hanno un'insonnia terminale perché esistono tre tipi di insonnia. La difficoltà ad addormentarsi, il risvegliarsi nella notte, svegliarsi la mattina alle 4, alle 5, mentre invece di solito uno dormiva di più. Questi sono quadri estremamente frequenti nelle persone che sono preoccupate. I nostri pazienti sono un po' più sensibili a questo tipo di insulti esterni. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 10 alle 12. Basterà prenotare il turno chiamando un numero dedicato. Il problema principale è per le persone che vivono sole o per le persone che non hanno grandi possibilità di comunicazione. Da questo punto di vista l'utilizzazione di sistemi come il telefono, il computer, tutti i sistemi di contatto virtuali sono estremamente consigliati perché è importante mantenere e rinforzare il contatto sociale. Grazie. Grazie.